ciao a tutti popolo del tubo bentornati su una nuova serie qua su farming simulator 19 in realtà come vedete una nuova vecchia serie ovvero molti di voi mi hanno proposto di tornare su una vecchia mappa tantissimi mi hanno detto la facebook eccetera eccetera ma io ho voluto fare diciamo un salto all'indietro ancora più incisivo e sono tornato sulla mappa di farming simulator 17 sulla mitica gold crest valley quindi la serie si intitola appunto back to the gold crest è in onore di ritorno al futuro grandissimo grandissimo film ritorno al futuro allora ragazzi questa era la mappa originale di farming simulator 17 quanti ricordi quanti ricordi su sta mappa sono state le mie prime partite le mie prime le mie prime serie le prime volte che entravo in multi da da dalle persone che poi sono state tra virgolette le mie guide su farming insomma mi scende un po' una una lacrimuccia ovviamente siamo nella versione che è stata rifatta per farming simulator 19 quindi se siete nuovi di farming e non avete giocato il 17 magari avete conosciuto il gioco sulle 19 vi prego amici miei eh di andare a dare un'occhiata a questa mappa perché merita quindi questa sarà una bella serie americana io ho iniziato eh con tutti i mezzi che lui mi dà di default ma adesso andremo a vendere tutto e compreremo altra roba per cercare di non avere sempre i soliti mezzi e sempre le solite cose adesso vi faccio vedere il pda della mappa perché ha giocato già farming e la conosce bene una mappetta molto grande devo dire non ha tantissimi campi a 30 campi più o meno una trentina però è veramente molto grande c'è tutto il centro cittadino eccetera eccetera ehm come multifruit ha il triticale e la segale quindi c'ha anche il multifruit ragazzi eh dovrebbe esserci anche per console credo adesso io non ho non ho controllato ma credo di sì cioè non c'è motivo perché questa mappa non debba finire su console i campi che ho io adesso sono il 12 il 14 e il 15 sono i campi che anche nel 17 ci dava è come di default abbiamo sul 12 lo no sul 14 l'orzo sul 12 il sul 12 cosa abbiamo sul campo 12 na 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 mazzetta e sul 15 sul 15 credo aspetta facciamo così va perché non si capisce niente dal pda allora dal 15 sul 15 amici miei abbiamo il frumento pronto per la raccolta non metto la non metto amici miei per carità la come si chiama quella moddina lì lì la precision farming ma per carità poi il il 14 ce l'abbiamo tutti da rasso i campi ce l'abbiamo ad orzo ed il 12 cioè abbiamo ad orzo ce l'abbiamo da 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 lavorare mentre il campo 12 il campo 12 lo abbiamo lo abbiamo a a niente a niente allora ragazzi iniziamo un pochettino a mettere bene a mettere bene i vari mezzi qua sono tutti i campi ma oh porca miseria non avevo visto il pesone non avevo visto il pesone allora ragazzi qua tutti i campi sono assolutamente da 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 arare da lavorare e quindi è inutile adesso sta qua con la 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 seminatrice alcuni mezzi li vendiamo ho trovato un autodrive sui siti esterni se voi andate sui siti esterni scrivete autodrive fs 19 goldcrest valley vi trova questa che come al solito è tutta in tedesca è tutta tedesca e quindi dobbiamo un attimino capire quello che quello che dice quello che vuole quello che c'è allora questa mamma mia la mitica farm centrale dei farming simulator 17 mamma mia che ricordi che mi vengono io qua su sta mappa ho iniziato ho iniziato praticamente da da capo da capo tutta la mia carriera su fs 17 ma anche sul canale quindi mamma mia mamma mia quanta bella robina allora il case lo portiamo in farm l'altro case ammazza c'ho due case ragazzo due case dobbiamo iniziare con due case per forza questo questo ci hanno dato e questo attualmente ci vediamo ci ci teniamo questa però voglio però vendere la la trebbia quella lì e voglio prendere la mitica comia voi sapete che io ho bisogno della comia perché se no che ricordo sarebbe voglio dire la comia è la comia quindi direi prima di tutto di raccogliere il triticale e poi successivamente andare andare a pensare campi eccetera eccetera poi vi ricordo amici miei che tutte queste operazioni le farò anche live perché in descrizione trovate trovate l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle ore 20 e 30 quindi va aspetto amici miei anche sull'altra piattaforma allora la macchina la macchina adesso non mi serve non mi serve la vendiamo così risparmiamo vendiamo la trebbia perché voglio fa la comia vediamo tutto quello che non ci serve questo non ci serve il fiat abbiamo già due trattori il fiat poi dice perché venduto il fiat perché europeo raga questa è una mappa americana me vorrei concentrare di più sui mezzi americani eccetera eccetera non ho messo la store delivery non ho messo la store delivery e quindi questo è molto disdicevole me so scordato di mettere la store delivery quindi bisognerà andare a prendere la comia direttamente allo shop che amarezza che amarezza che amarezza 124 mila euro per la comia gps sì ma se la faccio usata se la faccio usata quanto risparmio 24 mila euro raga 24 mila euro mi risparmio me la faccio usata va me faccio la comia usata e la lama ovviamente la sua visto che tanto è piccolina non mi faccio nemmeno il carrello dai raga 4 metri e 2 nemmeno sta a combatte a metterla sul carrello andiamo allo shop eccolo qua il mitico morgan's massive motor raga chi se lo ricorda lo shop di morgan mamma mia mamma mia prima però andiamo a dargliene aggiustata proprio nell'officina qua a fianco perché devo dire c'è bisogno c'è bisogno ragazzi la mitica officina di farming simulator 17 a posto con mille euro l'abbiamo aggiustata e adesso dovrei mettere anche la benza però non c'era un distributore da ste parti c'è doveva sta un distributore da ste parti io me lo ricordo raga così vi faccio fare un giretto anche nella gold crest valley io me ricordo amici miei che c'era un distributore cioè è una cosa che distribuisce i tori non lo vedo vabbè vabbè me ne vado in farm me ne vado in farm e metto un distributorino in farm tanto ce l'ho la botte ce l'ho la botte nella botte piccola cervino buono mi diceva nonno allora vado vado raga vado raga certo che 25 chilometri orari ci metteremo una vita quindi sapete che famo apriamo l'auto drive e e lo mandiamo in farm off lo mandiamo in farm quindi off dovrebbe essere farm noi torniamo in farm e intanto ci agganciamo il carro il carretto dietro per raccoglie il nostro bel triticale quello laggiù è il silos raga quello che vedete in lontananza ok qui ci attaccano il carro e lo sistemiamo qua lì è la vendita delle balle non è uno stoccaggio quello è lo stoccaggio poi lo faremo e poi 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 io direi di mettere il dist il il cosino della benzina eccola qua la fuel tank che io metterei proprio vicino all'officina che dite se no la metto qua guardate qua ok no collide con un altro anno non ho messo nemmeno la global company non ho messo niente raga ho voluto lasciare tutto come era e ho fatto un po' una cacchiata perché vedete adesso lui non è che mi fa mente ho la roba dove voglio io allora scusate un attimo innanzitutto qua ci voglio la terra ecco non ci voglio ecco ci voglio la terra e poi ci voglio un fango perché può succedere no deve un po de sozzeria ok perfetto questa è la parte dove andremo poi a rifornire i nostri mezzi nel frattempo la trebbia raggiungendo a casa piano piano raga gli ci vuole il suo tempo con la mitica comia gli ci vuole il suo tempo perché 25 chilometri orari adesso prendo il controllo io me la ricordo raga la super strada della la mitica super strada della della mappa americana che ricordi che ricordi mamma mia mamma mia mamma mia vabbè dobbiamo dobbiamo fa sta cosa qua dobbiamo trebbiare quindi che questo dobbiamo fa anche se è lentina come cosa mi ricordo la raga mi pare come fosse ieri ragazzi andate a recuperare la mia serie su farming e simulator 17 sulla gold christ se vi interessa ma è vecchia proprio una vecchitudine una vecchitudine veramente per me un colpo al cuore magari a tanti sta mappa non dirà niente sta serie americana non però ragazzi per chi per chi per chi per chi per chi è tanta roba per chi c'è una vecchia canzone di maria carrie canoli canoli perché no perché era rifatta in italiano vabbè è un colpo al cuore era tutto quello che io vedo in colpo al cuore qua allora qui abbiamo un altro capanno per i mezzi qua sotto qua poi ci metteremo la trebbia questo qui è il silo se quello laggiù è il fienile o fatemi un attimino aggiusta la gps raga devo ricordare a mettere la store della store delivery perché sennò ogni volta tornare dallo shop fa tutta sta strada ma la prima puntata ci sta che uno ve fa a vedere e pdp e pdp però insomma dopo direi proprio che non è il caso non è il caso allora iniziamo punto a qui i campi però se lavorano bene sono tutti quadrati tutti proprio tutti i precisi tutti i pettinati allora trebbia trebbia e salviamo adesso lui dovrebbe andare o che dite la famo la paglia a famo la paglia ma si famo la paglia va la vendiamo tanto ci abbiamo direttamente il fienile qua adesso non ci abbiamo gli animali non ci abbiamo le mucchette non ci abbiamo niente quindi con la paglia non ci fanno nulla però possiamo prendere un carro raccoglitore e ce la vendiamo voglio di tanto sta proprio lì vicino il 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 cosino e ce la vendiamo alla grande che bello che bello questo ritorno come vanno gli fps 49 50 43 38 non è proprio leggerissima sta mappa è strano eppure è una mappa praticamente di default ho tolto le modde quelle un po più rognose l'ho tolte tutte quindi non ho messo né preciso né in season né 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 global company non ho messo nulla proprio per avere una partita più è più leggera possibile non lo so forse tanti alberi e c'è da dire che sta modda è piena sta mappa è piena di alberi ma tanti 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 alberelli quindi probabilmente il problema il problema è quello lì comunque ragazzi in tutta questa moria di mod speriamo che oggi esca qualcosa di gustoso di bello ieri sul mod news ho risposto a tutte le vostre domande sull'auto livellante se ve lo siete perso ve lo lascio qua nella i nel box informativo così correte come dei fuletti e andate a vedervi anche il mod news e nel momento in cui sto registrando il video ovviamente lunedì mattina non sono ancora uscite mod sicuramente quando voi vedrete il video saranno già stra uscite speriamo bene speriamo di vedere di vedere bella bella robina poi purtroppo c'ho anche il tempo stamattina c'ho il tempo come si dice contato raga infatti devo chiudere un pochetto prima il video perché ho fatto tantissime canzoncine tantissime gif nuove per l'altra piattaforma chi mi segue sull'altra piattaforma sa benissimo che io faccio tantissime canzoncine tantissime gif e quindi e quindi aspettate che qua secondo me è sbagliata la larghezza di lavoro è sbagliatissima perché vedo che lascia i ciuffi questo è 4 metri e 2 invece lui mi ha dato quanto mi ha dato lui 5 metri non va bene non va bene aspettate un attimo 4 metri e 2 aspetta 4 metri a o 4 metri e 2 no 4 no come cacchio era 4 metri e 2 aspettate no vabbè va bene così dai me la faccio una bene me la faccio una bene dicevo che ho fatto tantissime gifette nuove tantissime canzoncine nuove infatti come sentite sto pure con la voce abbastanza mezza distrutta e poi devo andare in live assolutamente quindi quindi ragazzi sono riuscito a registrare questo video proprio nella pausa 10 minuti prima della live e andrò in live proprio con questa serie qua quindi insomma tanta roba però amici miei come vedete il tempo per portare un video anche qua l'ho dovuto l'ho voluto trovare perché sia mai amici miei che che vi lascio senza il videuzzo quotidiano io raga spero che questo video sia stato di vostro gradimento questo inizio alla fine è un inizio un'illustrazione di quello che è e che sarà la serie fatemi sapere nei commenti se questa mappa vi piace se questo ritorno alle origini vi piace ma soprattutto vorrei sapere se conoscevate questa mappa o se non avete giocato al 17 non la conoscevate che cosa ve ne pare perché sono molto curiosotto di sapere che cosa ve ne pare quindi amici miei amici miei commentate 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 lasciate un bel like io ringrazio gli amici abbonati che rendono possibile tutto questo i miei amici sponsor coloro che veramente aiutano tantissimo il canale poi ringrazio tutti voi di essere arrivati qui tutti quelli che si iscrivono tutti quelli che attiveranno la campanella che condivideranno questo video vi ricordo che potete anche preordinare già farming simulator 22 dai miei link qua sotto purtroppo non su steam solo esternamente quindi anche la versione che è la versione chi vi daranno un un exe da installare e per fare appunto per far partire il gioco grazie a tutti quelli che hanno preordinato e che preordineranno io amici vi bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao